Il museo ha una forte attitudine a occuparsi dello spazio, sia per quello che riguarda le attività dell'industria, sia per quello che riguarda la ricerca e naturalmente quelli che ne sono i protagonisti. C'è una seconda attitudine che è quella del museo, dedicare il proprio spazio e la propria attenzione alle mostre, alle mostre fotografiche che ne abbiamo ospitate, ne ospitiamo di importanti, questa sicuramente ha queste caratteristiche. E poi c'è, se vogliamo, la grande cornice, lo scenario di genere, perché c'è ancora tantissimo da fare, hanno elementi più istruiti e più attenti, ma ormai la questione di genere è risolta, non lo è affatto, la cronanca quotidiana lo racconta. E quindi, in un luogo come il museo, che è un luogo di comunicazione, un luogo di educazione, un luogo in cui vengono tantissimi studenti, tantissime famiglie, ecco che ritornare a parlare in modo qualificato, attraverso quella cosa bellissima che è l'immagine fotografica, delle donne che si occupano di ricerca, che si occupano di spazio, che si occupano di queste frontiere della conoscenza umana, tra l'altro fotografate da donne, ecco, è un ripresentare un tema che è tutt'altro che consumato e sul quale bisogna, a mio avviso, ancora percorrere molta strada.